Oggi giornata ricreativa in Sardegna con Marco, Toro Enduro Sardegna. Oggi si va alla scoperta di qualche nuovo sentiero in mezzo al fiume. Sono delle piccole perle che regaleremo ai nostri amici. Ho! Grazie a tutti. Tutto ok? Tutto ok? Tutto ok? Tutto ok? Tutto ok? Tutto ok? Se mi salvo da questa, se non mi bagno i piedi qua sono un mago. Grazie Carletto! Grande! Tutto a zero! Grazie a tutti! Grazie a tutti!